Ciao a tutti gacciotti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Minecraftita Scusate se sarò moscio e o altro Ma non mi sento benissimo Ho qualche tacca di febbre Tutta colpa Di tu sai chi Oh che cos'è? 9 tweet? No perchè ho qui di fianco il Perchè voglio dirmi Ho qui di fianco il Dell XPS Non lo so Insomma mi hanno inviato un tablet da Recensire No non me lo tengo Lo devo solo recensire E quindi Possivamente nel mio canale Ok basta Mi avete detto che effettivamente fa cagare Io lo ripeto Secondo me è la stone che non è L'ideale Dov'è la barca? No Indietro Ti prego Davvero Ragazzi scusate se No penso che Farò dei video abbastanza corti Sì Siamo anche a sita che taglio col tubo Oggi Perchè Non mi sento Al massimo delle mie forze Ho fappato troppo Eh Che cosa vuoi che ti dica? Non lo so Magari qui qualche cosa con la stone Per dare un po' più di Perchè Effettivamente Prima è solo una cosa Fapp Un po' di scale Facciamoci un paio di scale I need dirt Effettivamente mi avete anche detto Effettivamente Perchè effettivamente Non mi sento di merda Però Nonostante il fatto che mi senta di merda Mi avete detto che Ho fatto un magaponte E non lo uso mai Eh Ehm Ok Questo è un nuovo tweet invece Strafigo sto delix Non so nemmeno quanto costa Però La recensione Scopriremo tutto assieme Cioè Voi scoprirete Io devo informarmi prima Eh Lo proverò penso per una settimanina E poi Il video della recensione La recensione Oh I got it I got it Non è se fosse disconnesso il tablet Pustazioni No è connesso È Windows RT Che è una specie di Windows 8 Molto Tipo solo per i processori ARM Non lo so All'interno L'interno mi sembra abbastanza Però L'esterno effettivamente Proviamo con queste Fapposissime sedie Scale Scale No ragazzi Penso che non riuscirò oggi A mettere il tech e coltubo Cioè alla fine Da tipo Questa settimana È saltato tipo tre volte Ma Non penso davvero di farcela Voglio registrare Minecraft Perché non voglio lasciarvi proprio Senza video Ma penso che Oggi Il tech e coltubo Salti Posso saltare Salterà E salterà E salterà Fino a quando sarà Solamente What if I do something Like this Ma f***a Ma f***a Oh ti odio sai No I want to try this out You know I want to try this out So let's get some Enderpurs First of all E partirò E partirò Fino a quando Sarò Solamente Un fappone Lontano E fa Però E fa Però Fino a quando Sarò Solamente Un fapper Lontano Eeeh 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 Ah Spiato che ho preso la terra Ok Ora facciamo un piccolo round Tutto qui Un piccolo Circle Non so perché L'ho messo la terra Anzi Ora lo tolgo Così 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 Ok Ho quasi finito il piccone Guarda Scommenti che mi finisce Il piccone Prima di Spagare tutte le cose Guarda Cioè Io direi che è colpa di qualcuno Ma non posso dire di che In effetti Non è colpa di nessuno Perché sono riuscito Ok Now Let's see How this Looks Eliminiamo Una buona parte Delle prove Così Co 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 Così Co 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 Così Let's see How it looks Potrebbe sembrare un pene Potrebbe Speriamo Non sia così Aggiunge un tocco di non so che Che fa più o meno cagare Quindi direi che è da eliminare Se non subito Proprio all'istante Eh una cosa che volevo provare Ma che schifo A meno che A meno 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 che io non faccio una cosa Eh ti odio Una cosa di questo tipo Mi serve un piccone I need a piccone Lo so potete craftarmene uno di diamanti Incantarlo e tutto ciò che volete Ma sono solo il power Non ne ho voglia Che ridere Ok ho visto comunque che Cioè volendo riusciamo a derivare a livelli di mi piace assurdi Io non chiedendolo tipo arrivo oltre i 500 In quasi tutti i miei video Di minecraft Sottolineamolo Chiedendolo siamo arrivati oltre i 1000 Sono molto contento di questa cosa Vuol dire che voi Fappate Cioè non so se capite Cioè voi fappate Sul serio No? Potevate dirmelo prima eh 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 Efficiency Fortuna Non voglio sprecarlo nemmeno Per un Fapp I'm gonna fapp you No matter how we walk out We have Dovrei forse liberarmi un po' di inventario Ad esempio da questo Da questo Da questo Da questo Qui ho un po' di sabbia Qui ho una zucca Qui ho Delle ossa Una flint Dove la posso Mai mettere Eh 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 Ho del colorante Perché mi serve il colorante Non lo so io Figuriamoci te Qui ho 30 iron ingot Ma non me ne sono accorto Giustamente Ho un pezzo di stone Ma che me ne frega Della stone Posiamo ciò che non ci serve La parola magica La frase magica Posiamo sta flint Dai fast and furious Molti mi hanno chiesto Quali sono le cordiate Della mia casa Perché con la mappa Non riescono a capire dov'è Ecco qui Li vedete in alto A sinistra Ok Let's see How we can Walk Giocare I was running away I was running away I was running away I was running away Ok One Two Ti odio Non sai quanto Io ti posso dare Questi due Ora sembra più un campanile Però mi piace Però mi piace Mi piace Forse Dovrei farlo Tipo Anche subito sotto Tipo Instant Fast and furious For the wind Mi spiego Che è una cosa molto Molto facile Ecco This could be an idea Quindi facciamo lo stesso Qua tutto intorno Allora facciamo tipo Ok Lì ci va questo Io ti odio Perché devo passare Dall'altra parte Per fare ciò Ok Sacchete Zichete Sochete Zichete Punte Che Let's see How this looks Mala Mi sento di merda Penso che a questo punto Tutto cobblestone Sia meglio Oppure stone brick Nah Stone brick Troppo stone brick Chiudiamo un attimo No Non volevo fare così Volevo proprio chiuderlo Ecco in effetti Straffigo comunque il tablet Perché Vabbè Poi lo vediamo Se vedi E il fatto che ce l'ho Qui a sinistra Finalmente potete usare Il wave stand Della cooler master Che voglio sottolineare Mi è stato inviato Per sbaglio Ma alla fine Ne ho trovato Un utilizzo Degno Ok Ok Perché il sole Ah no Che mi sembra troppo Poco definito Cioè troppo squadrato Per essere un sole Minecraftiano Penso che In effetti Tutta stone Che fail Mi sono dimenticato Cioè ti rendi conto Cioè questo Su me cambia tutto Non per dire Tutto stone For the win Cioè tutto cobblestone For the win Cos'è che c'era Oltremmo C'era da fare Oddio Che cos'è C'era da fare Il Il Faro Faro Che se non sbaglio Volemo fare tipo Lì O lì O lì Penso lì 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 I have Decisamente Decisamente Molto meglio Tutto in cobblestone Voi insistavate Sul fatto Di utilizzare la stone Ma Hey Hey What can you do This looks badass This looks badass 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 Badus D'ai Non dimmi che non è notte Ah So but dove sono venuto a mangiare Piccolo lapsus così Capita 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 I'm going to stream And shout Si 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 Proprio stream And shout Ah qui ho quattro patate Che senso Altre quattro altre quattro altre quattro qui della stona I hope you happy mother fucker I hope si effettivamente fa un po' ok aspetta li apriamo rawi rawi è molto figo come applicazione per twitter eh cioè l'ho provata qui su su windows per il tablet ma lo provo di sicuro anche sullo smartphone tra l'altro devo cambiare smartphone ragazzi che smartphone mi suggerite? uno smartphone che non sia troppo grande il costo può essere anche elevato però non deve essere troppo grande perchè ad esempio l'iphone 5 è ancora ancora ok perchè non è enormissimo l'S3 è molto più largo dell'iphone cioè li ho visti a confronto e l'S3 cioè tipo il pollice ti arriva giusto giusto dall'altra parte dello schermo se lo poni orizzontalmente rispetto al tasto fisico mmm non lo so stavo anche pensando tipo a uno di nuovi lumia con windows 8 per l'appunto perchè lo sto provando in questi giorni e non è vabbè non è propriamente windows 8 ma comunque posso assicurarvi che non è così male come tutti l'hanno descritto anzi io mi ci trovo benissimo da non saperlo usare perchè proprio è la prima volta che lo usavo a maneggiarlo con destrezza ci ho messo sì e no ehm due o tre ore ma non di utilizzo intenso proprio di di tappare un po' di qua e di là oh che carino questo cagnolino ok basta quindi tutta stone proviamo a metterci un po' di stone bricks si ho il ponte mi ostino usare si perchè cacchio ma cosa ti fumi surrall? surrall no ma dimmi ma che cosa ti fumi? me lo vuoi dire? me lo vuoi dire? no mannaggia i fapper è colpa di chi so io lascia stare ok ok ah voglio raccontarvi una barzzeretta l'ho raccontata durante il live eh ehm però nel live raggiungiamo le 300-400 persone che son tante eh ehm non sputiamo nel piatto in cui mangiamo però rispetto alla mia pool di audience rispetto alla mia audience su youtube ehm sono uno scriciolo ehm e ha anche quella sopra yes i got you ma the problem is how the fuck ok ah la barzzeretta è questa ci sono due missionaristi non so se si dica missionaristi ma hey what can you do ehm che sono all'esame per diventare preti insomma sacerdoti quel cacchio che non lo so questa barzzeretta me l'ha raccontata il mio prof di religione tanto per farvi capire come sono messo io a livello di professori della scuola no nel senso grandissimo professore proprio grandissimo lecchiamo il culo lecchiamo il culo con una grande lingua ok ehm ci sono questi due missionaristi che vanno ma quando è che si fa notte scusa ma io sto registrando vuoi dimmi cosa si deve fare notte ma è che non ti credo eh ma cosa si deve ah 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 eh finalmente che cos'è ehm stavo dicendo ci sono questi due missionaristi che sono davanti a una ehm un tavolo con dei vescovi questi vescovi devono fargli l'esame allora ci sono questi due missionaristi uno è un po' più scemo uno è più intelligentino insomma c'è quello scemo e c'è quello intelligente non vorrei fare un paragone ma poi so che ehm ehm stupido come tu sai ah 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 eh eh scherzo 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 come vi ho detto nel video di E delle 6 prendete tutto con le pinze pinzo così hm ehm ehm ok c'è quello stupido entra quello intelligente per primo gli mettono davanti quattro immagini ehm che sono ehm un diavolo un porco ehm una razza il pesce no con la con le con le pinne giganti a a modi di aereo e e una donna nuda allora gli escovi dicono bene mi descriva ehm brevemente queste queste tre ma ti fai not queste tre quattro immagini allora arriva il quello intelligente e dice ah beh il diavolo rappresenta la l'impurità ehm no che che dico il male il peccato insomma qualcosa del genere poi passa il porco è l'impurità i peccati la sporcizia ehm dell'essere umano ma è no ok ehm la sporcizia essere umano poi arriva la razza e la razza è ehm questo simbolo è questo simbolo che rappresenta gli angeli con queste due ehm pinne che si ehm aprono a modi ali creando un'atmosfera paradisia no non dice esattamente così poi la donna nuda è il simbolo dell'amore della creatura di dio ehm i vescovi sempre bravo bravo si si bravo bravo complimenti complimenti e questo esce da esce da da questa stanza ora quello un po' più scemo gli chiede ehi come è andata è facile e quello intelligente gli dice si si guarda gli dice quattro parole in croce sei a posto ehm si che ehm entra con un po' più stupido ehm gli mettono avanti le quattro foto gli dicono mi descriva brevemente queste immagini allora ci pensa un po' fa un po' di scena muta ad un certo punto anzi ehm ci sono ehm diavolo porco che rassa di figa questa ehm 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 sto male non farmi ridere ehm la capisci di più se sei veneto perchè che rassa la razza che razza di che razza di ok basta ok basta mi ritiro quindi caciotti questo episodio è tutto lo so non sono cioè si dovrebbe essere venti minuti o qualcosa c'ho un mal di testa assurdo che non vi dico quindi penso che ora semplicemente andrò a dormire quindi ehm non ci sarà il video di technical tubo oggi ehm cioè domani perchè in realtà oggi sarebbe domani perchè io sto registrando l'episodio ieri si è abbastanza contorto come ragionamento ehm lasciatemi dei suggerimenti per questa perchè vorrei tanto abbatterlo tipo abbatterlo le palle mi piacciono in qualche modo però la struttura dietro da rifare secondo me ma i amo di cupola cazzo ne so quindi sorry ancora se non ci sarà il video di technical tubo monkey island c'è di sicuro perchè ce li ho pre-registrati vabbè ehm grazie a tutti se volete lasciare un mi piace ehm è sempre bene accetto penso che lo dirò prima o poi alla fine di un video vi vedo lasciare un bel mi piace e ciao a turuturu tutti che mal di testa grazie a tutti